e voglio chiudere questo incontro con un testo ben augurante, questo che dopo tutte le catastrofe di cui abbiamo parlato, ciò è anche un po' di ottimismo, un po' di luce, con una poesia che io amo molto, una poesia di Andrea Zanzotto, che a piedi di solito era addirittura vicino di casa della nostra famiglia, quindi è una poesia di casa, è una poesia del 68, si intitola al mondo, e per leggerla, qui sta in giochino con Zala, ho chiesto a Zala di preparare una musica di sottofondo, vedi, tu hai pure, il mondo, sì, è buono, esisti, è buono, buonamente, fa che, cerca di, tendi a, dimmi tutto, ed ecco che io ribaltavo e lubevo, e ogni inclusione, era fattiva, non meno che ogni esclusione, su bravo, esisti, non accartocciarti in te stesso, in me stesso, io pensavo che il mondo così concepito, con questo super cadere, su per morire, il mondo così fatturato, fosse soltanto un io, male spossolato, fossi io, indigesto, male, fantasticante, male, fantasticato, mal pagato, e non tu, bello, non tu, santo, esantificato, un po' più in là, dall'alto, fa di esistere, desistere, obsistere, e oltre tutte le preposizioni, note e ignote, abbi qualche chance, fa buonamente un po', il congetto, abbia gioco, su bello, su. Grazie. Grazie a tutti, facciamo un applauso a Luca, Discount, Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata e auguri.